Hai preso una gomitata che è risultata decisiva per l'Udinese per portare a casa questo rigore, un episodio determinante con la tua voglia di cambiare la partita. Sì, penso che sia stato determinante, però lo più importante è che oggi abbiamo stato coraggioso, abbiamo fatto non una buona partita nel gioco, però penso che abbiamo fatto lo possibile per portare i tre punti a casa. Lo hai detto tu, non una buona prestazione, non una buona partita, figlia forse di una partita che valeva tanto, tantissimo per il campionato di Udinese, di una settimana che avete vissuto anche con un po' di tensione, forse un pizzico di carica di troppo. Sì, sì, è difficile giocare così, però buono, penso che oggi, come te l'ho detto, abbiamo stato coraggioso e quello è lo importante. Questi tre punti possono aiutarvi, considerando anche che poi ci saranno due settimane per preparare il prossimo appuntamento, possono aiutarvi a uscire un po' da questo momento, a vedere il lato positivo di questa squadra e fare altri punti anche con il Bologna? Sì, speriamo che sì. Adesso dobbiamo lavorare nella settimana, è più tranquillo, dobbiamo migliorare perché arriva una squadra che è difficile e dobbiamo fare una buona partita e avere i tre punti. Tu del Bologna è un buon ricordo perché hai segnato il tuo primo gol in Serie A, magari ci fai una piccola promessa di ripeterti. No, speriamo, speriamo, speriamo che la squadra vince, che è lo più importante.